Negli ultimi anni Negli ultimi anni è stato finalmente riscoperto in tutto il mondo un movimento letterario che sembrava quasi fosse sepolto dalla miriade di fumetti giapponesi oggi famosi in tutto il globo. Il fatto che solamente oggi abbiamo la fortuna di vedere tradotte tante opere così importanti è sintomo di quanto il talento di questi straordinari mangaka non sia stato apprezzato sin da subito nemmeno in patria. A differenza di altri mangaka come Akira Toriyama e Ichiro Oda o Masashi Kishimoto che sin da subito ottennero un grande successo, molti degli autori Gekiga hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per ottenere una minima parte di quello stesso successo. Vediamo come ci sono riusciti. Come abbiamo visto alla fine del primo episodio, sul finire degli anni 50 troviamo ben saldo in cima alla montagna del manga popolare Osamu Tezuka. In cima all'altra montagna, quella del manga più adulto, dalle atmosfere più cupe, sarà destinato a salire Yoshiharu Tsuge. Sarà lui ad essere ricordato negli anni successivi come il massimo rappresentante del Gekiga, un tipo di fumetto nato in Giappone con l'intento di soddisfare dei lettori più adulti rispetto al pubblico, composto all'epoca quasi esclusivamente da bambini al massimo adolescenti, a cui si rivolgeva il manga durante i suoi primi anni nel dopoguerra. Ma come la genesi del manga moderno non comincia con Osamu Tezuka, nemmeno la storia del Gekiga parte da Yoshiharu Tsuge. Risale al 1956 l'uscita dell'innovativa antologia Kage, Ombra. Un libro con storie di autori accomunate dallo stesso desiderio di differenziarsi rispetto ai normali autori di manga per bambini. Le loro storie sono cupe, disegnate con un tratto più realistico, anche se spesso molto grezzo e sporco, e trattano di temi molto vicini a quella parte dei cittadini giapponesi che non vivevano nell'agio. In questa antologia i temi predominanti sono il marciume dell'uomo, le infime trappole della società, la rappresentazione di una società pronta a tradirti e pugnalarti alle spalle al primo momento opportuno, la codardia degli uomini gli uni verso gli altri, le violenze domestiche e le ossessioni per il sesso, l'alcol ed il gioco d'azzardo. È proprio uno degli autori presenti in questa antologia a trainare tanti colleghi verso un nuovo modo di fare manga. Yoshiro Tatsumi, nato ad Osaka nel 1935, è fortemente ispirato in gioventù dai manga di Osamu Tezuka. I suoi primi lavori risalgono alla fine degli anni 40, anni nei quali l'autore sperimenta diversi generi. Si cimenta nelle yonkoma, stile di manga con impostazione ricorrente delle tavole, che abbiamo già visto nel primo episodio, scrive storie comiche e negli stili più consoni all'epoca. Per la situazione giapponese del dopoguerra, il 1949 fu un anno molto importante. Avvennero grandi cambiamenti ed avvenimenti, inizialmente negativi, come l'incendio del padiglione d'oro del tempio di Ryuji, la più grande struttura in legno del mondo, o ancora il famoso incidente che coinvolse le ferrovie giapponesi ed il loro presidente. Avvenimenti importantissimi, tanto che ancora oggi vengono citati in opera come Billy Butt di Naoki Urasawa. Il morale dei giapponesi si risolleva tantissimo quando per la prima volta, nel settembre di quell'anno, a Los Angeles, un notatore nipponico sconfigge i rivali statunitensi. E poco dopo, Hideki Yukawa vince il premio Nobel per la fisica, diventando il primo giapponese a ricevere questo ambito di conoscimento. Fu la prima volta, dopo il conflitto mondiale, che i giapponesi ritrovarono un inaspettato coraggio ed un rinnovato vigore, ed in questo clima tante riviste manga mensili presenti all'epoca, che comprendevano ancora per lo più qualche manga yonkoma, qualche striscia, articoli, o altri scritti non necessariamente legati al manga, prevedevano anche alcune pagine dedicate ai migliori fumetti, creati ed inviati dai lettori stessi. Una delle molle che convinsero ancora di più Yoshiro Tatsumi ad intraprendere la carriera di mangaka fu la vittoria, per ben due volte, come miglior manga da parte di suo fratello, sulla rivista Manga Shonen, in questi concorsi che permettevano di vedere pubblicate le proprie opere, oltre che di sovente a dei compensi in denaro. Fu questa la prima dura gavetta di Tatsumi, che iniziò a spremersi per produrre quante più tavole da inviare alle riviste, specialmente opere da poche vignette, lasciando un attimo da parte il suo sogno di creare manga di ampio respiro, come suggeritoli anche dal sensei Tezuka in un incontro che cambierà per sempre il giovane aspirante mangaka. Oltre ad essere una vera e propria scuola di preparazione alla sua futura carriera di fumettista, il fatto di essere costantemente chinato sul tavolo da disegno permetteva al giovane Yoshihiro di staccare la spina dai numerosi problemi familiari, dai genitori che si stavano separando, al rapporto di amore e odio con suo fratello, malato e spesso di conseguenza frustrato ed irascibile. Finalmente, nell'aprile del 49, viene pubblicata su una rivista una delle tante strisce inviate da Tatsumi. Molte altre saranno poi le riviste che accoglieranno queste prime brevi opere dell'autore, che tuttavia rimane con il cruccio di non vederne nessuna su manga shonen, rivista culto dell'epoca su cui il fratello era già apparso. Ma il duro lavoro viene premiato e finalmente a luglio dello stesso anno, la rivista che tutti i piccoli giapponesi veneravano pubblica la casa dei misteri del giovanissimo Yoshihiro Tatsumi. Dopo questa prima pubblicazione, le cose per Tatsumi furono in discesa. Molti altri piccoli editori cominciarono a pubblicare le sue tavole e nel 1950, insieme ad altri sei mangaka, Tatsumi fonda la Kodomo Manga Kyukai, un'associazione di mangaka che creano opere per bambini, pubblicando anche la rivista Le Stelle del Manga, ed essendo di fatto la prima associazione nazionale amatoriale di mangaka del periodo postbellico. Nel febbraio del 1953 inizia la programmazione della rete nazionale televisiva giapponese, la NHK, ma in quel periodo in Giappone un televisore da 21 pollici costava 250.000 yen ed erano in pochissimi a potersi permettere un simile lusso. Infatti il salario base di un ragazzo appena diplomato si aggirava sugli 8.000 yen e un televisore aveva il valore di due anni del suo stipendio. Il giovane Tatsumi all'epoca era preoccupato che l'avvento della televisione nelle case delle famiglie giapponesi potesse completamente soppiantare i manga. Al contrario, nel 1954 ci fu un grande boom nel mondo dell'editoria nipponica. La serie K-Books dell'editore Kobunsha ebbe un grandissimo successo, che portò ad un esponenziale aumento nel numero delle pubblicazioni e dalla teoria che fosse possibile creare best-seller a tavolino. Fra le serie lanciate nella collana K-Books vi fu anche Ino Tori, l'uccello di fuoco, opera conosciuta in occidente come La Fenice, uno dei più grandi capolavori del fumetto mondiale e, secondo molti, l'opera più maestosa di sempre del maestro Osamu Tezuka. Oltre a ciò, quell'anno riscossero grande successo in terra nipponica i film occidentali Romeo e Giulietta e Vite vendute, oltre alle grandi interpretazioni di Audrey Hepburn in Vacanze Romane e Sabrina, veri e propri cult del popolo giapponese. Il 3 novembre viene al mondo, realizzato dalla Toho, il primo film di quello che diverrà a sua volta un simbolo del Giappone nell'universo, ovvero Gojira, conosciuto in occidente come Godzilla, personaggio che ancora oggi gode di immensa popolarità, grazie alle decine e decine di film a lui, o per meglio dire a lei, dedicati. Godzilla sarà una delle metafore, universalmente riconosciute, dell'odio verso le armi nucleari, rappresentate proprio dal mostruoso lucertolone verde. Questo rinnovato entusiasmo nel mondo dell'editoria porta tante case editrici ad affacciarsi al fumetto, e questo facilita molto le cose per Tatsumi e compagnia, che cominciano ad allargare le proprie conoscenze e la propria fama, iniziando a lavorare per più editori contemporaneamente. Quello che fungeva da casa base per la loro combricola era Inomaru Bunko, e fu proprio in questa redazione che Tatsumi conobbe un ragazzo che lavorava con loro già da un anno, colui che sarebbe diventato uno dei punti cardine del Gekiga, il creatore del Komaga, genere riconosciuto dai più proprio come precursore del Gekiga stesso, ovvero Masaiko Matsumoto. Per qualche anno, costretto anche dal bisogno di aiutare economicamente se stesso e la sua famiglia, il giovane Tatsumi continua a scrivere brevi strisce, o fumetti da poche tavole. È a partire dal 1955 che tutto questo comincia a stargli stretto, ed è il primo ad eliminare del tutto alcune caratteristiche del manga che sino ad allora sembravano imprescindibili, come la comicità e le espressioni deformate dei personaggi, mantenendo, ed anzi esasperando, lo stile cinematografico dei manga di Tezuka. Tatsumi viveva stretto contatto con altri autori simili a lui negli intenti, come Masaiko Matsumoto, Takao Saito o Masa Akisato. Respinti dai grandi editori, per la crudezza delle loro opere, si fecero prima le ossa nel Kamishibai, il teatro animato viaggiante che abbiamo già visto nel primo episodio, nel quale si cimentano alcuni di loro, come Shigeru Mizuki o Sanpei Shirato, e insieme crearono per il mercato delle librerie a prestito le prime antologie a proporre questo nuovo genere di manga, altamente drammatico e completamente diverso dai fumetti visti fino ad allora, quasi tutti fortemente influenzati, o addirittura a volte copiati, da quelli del maestro Tezuka, a sua volta già fortemente ispirato dal lavoro di Walt Disney. All'interno di questa nuova corrente non c'era spazio per personaggi super deformed o smorfie inserite a smorsare i toni. La vita reale che il Gekika voleva proporre su carta non si ferma per ridere durante le circostanze più dure a cui ci mette davanti, e sono proprio queste circostanze le protagoniste dei racconti Geki-ga, immagini drammatiche, la traduzione più accreditata, storie di uomini che hanno a che fare con i lavori più duri, degradanti ed umilianti, famiglie disastrate e alla prova con vite distenti, abitanti dei suborghi più squallidi, in lotta quotidianamente con la vita per poter ottenere due spiccioli, donne sfruttate e quanto di peggio la condizione umana possa offrire. A quel tempo a farla da padrone erano le riviste mensili del Kanto, la regione giapponese della quale fa parte Tokyo, che ospitavano i grandi nomi del manga per ragazzi come il maestro Tezuka. Solo pochi tra questi autori però avevano l'onore di vedere le loro opere pubblicate su riviste e poi raccolte in volume, solo quelli di grande successo. Mentre in questo senso una rivoluzione stava nascendo nell'altra grande regione nipponica, il Kansai, proprio dalla più importante città di questa regione, Osaka, che era il quartier generale di Tatsumi e compagni. Fu qui, in un periodo storico in cui i giapponesi erano assetati di intrattenimento a poco prezzo, dopo la batosta subita in guerra, che ci fu un boom mai visto prima delle librerie a prestito. Questa tipologia di negozio esisteva in Giappone già dal periodo Edo, ma mai prima di allora aveva raggiunto un tale bacino di utenza. Per noleggiare un volume bastavano spesso 5 yen al giorno, circa la metà del costo di un biglietto della metropolitana di Tokyo dell'epoca. E gli artisti stessi di questa corrente sentivano ancora più l'attaccamento ai propri lettori, dato che come loro vivevano chi più, chi meno, in situazioni disagiate. Yoshiharu Tsuge perse il padre a soli 5 anni ed iniziò a lavorare sin dalle elementari, facendo anche i lavori più degradanti possibili. Sanpei Shirato, poi autore di vere leggende del manga come Kamuiden, aveva assistito a molte azioni brutali della polizia, seguendo il padre che faceva parte della Lega degli Artisti Proletari. Questo si rifletterà poi in tutte le sue opere, sempre aventi come tematica centrale, la lotta della povera gente comune contro i dispotici governanti o militari di turno. Shigeru Mizuki, artista di cui abbiamo già parlato nel precedente episodio, ma che può essere anche accomunato per certi versi al Gekiga, come soldato in Papua Nuova Guinea aveva addirittura perso il braccio sinistro, dovendo reimparare a disegnare con il destro una volta tornato in patria. E questa è solo una piccolissima parte dei tantissimi episodi che segnarono il vissuto e di conseguenza le opere dei tanti artisti che si cimenteranno con le immagini drammatiche tanto volute da Tatsumi. Proprio grazie a questo vissuto comune e dagli intenti anch'essi in comune, questo gruppo di mangaka poteva definirsi come un vero e proprio proletariato artistico e anche sociale, a differenza degli artisti maggiormente osannati come il già citato Tezuka, che veniva da una famiglia molto agiata. Quando ci fu l'esplosione dei manga a prestito, molti degli autori che gravitavano intorno alla cerchia di Tatsumi trovarono impiego, anche se questo era spesso sottopagato. Infatti per ogni tavola il più delle volte venivano pagati circa 250 yen, quattro volte meno dei loro colleghi di Tokyo. Proprio attratti dalle paghe dei loro colleghi, molti autori Gekiga sognavano di sfondare nella capitale, ma ancora i tempi non erano maturi perché questo succedesse. Fu in quel periodo che all'interno della redazione di Inomaru Bunko cominciò a formarsi un solido nucleo di persone che avevano una visione comune sul tipo di fumetto che volevano proporre. Questo nucleo era composto da persone che gravitavano intorno a Tatsumi, come colui che nel frattempo era diventato un suo grande amico, ovvero Masaiko Matsumoto, una persona di cui Tatsumi si fidava molto, oltre che personalmente, anche sul piano lavorativo, da grande estimatore delle sue opere qual era. Oltre a lui vi erano anche Masaki Sato e Takao Saito, un giovane mangaka che aveva pubblicato un manga thriller di buon successo dal titolo Barone del Cielo. Grazie alla lunga gavetta, alle sue ispirazioni e a quelle provenienti dai colleghi con cui Tatsumi passava gran parte delle giornate, arrivano per lui le prime idee per trasferire su carta quella che era la sua visione di manga non manga, così come chiamava ciò che aveva in mente, come chiara e netta distinzione da quella che al periodo in terra nipponica era considerata praticamente l'unica tipologia di fumetto, ovvero il manga per bambini. Le opere che il mangaka aveva in mente dovevano tralasciare qualsiasi parte comica o gag. Nonostante da un sondaggio fatto su una grossa rivista dell'epoca, ai vertici delle classifiche di gradimento fossero ancora saldi manga umoristici come Sazae-san, Iga Guri-kun e Todoroki-sensei, e sembrasse quindi che tutti i lettori volessero quel tipo di storie. In realtà non poteva che essere così, dato che su larga scala erano comunque quelle le storie più accessibili, che spesso venivano pubblicate anche in strisce sui quotidiani, e che non c'era ancora una valida alternativa al manga più nazional popolare, se non in eccezioni talmente sporadiche da sembrare invisibili. Nel mare della produzione giapponese, in pieno boom e rialzo per la prima volta dopo la guerra. Il 19 febbraio di quell'anno, il 1956, in Giappone viene lanciata la prima rivista settimanale di una casa editrice, ovvero Shukan Shinsho, rivista dedicata principalmente ad un pubblico maschile adulto dell'editore Shin Shosha. Le riviste settimanali a quei tempi uscivano tutte per società di giornali, con tirature di circa un milione di copie. Per una casa editrice era davvero difficile pensare di poter competere con quelle grandi società, pubblicando settimanalmente, perché questo richiedeva enormi liste di contatti, grandi capacità di stampa, che spesso mancavano soprattutto alle case editrici più piccole, senza contare reti di vendite e soprattutto un reddito pubblicitario. Il successo di Shukan Shinsho fu dovuto al sapersi distinguere dalle riviste concorrenti. Tra i cruci di Tatsumi c'era il voler provare a sperimentare con il formato A5, davvero inusuale per delle tavole di un fumetto all'epoca, e pensò di proporre la cosa al suo editore, che però rifiutò. Al ragazzo venne quindi l'idea di ripresentare la cosa all'editore, ma in veste di collaborazione tra lui e Masaiko Matsumoto, volendo sfruttare il fatto che l'amico fosse uno degli autori di punta di Inomaru e che a lui fossero già stati affidati dei lavori in quel formato. Tatsumi decise di sottoporre l'idea ad un collega più anziano, che all'interno della redazione faceva un po' da guida a tutti i mangaka più giovani, ma quest'ultimo, invece di spronare il ragazzo a proporla all'editore, decise di prendere questa idea ed ampliarla maggiormente. L'uomo riunisce i giovani e promettenti autori di Inomaru Bunko per parlare loro di un'idea, un volume mensile che avrebbe portato storie firmate ogni volta da 5 o 6 autori, tutti alle prese con racconti brevi. Tra una lista di titoli pensati dai ragazzi, Ombra fu quello che ricevette più consensi tra i mangaka, e sul suggerimento di Tatsumi fu rimossa la parola manga dal sottotitolo del libro. Ombra ebbe un successo enorme quanto inaspettato, e paradossalmente portò ad un calo nelle vendite di Inomaru Bunko, in quanto i suoi autori erano tutti concentrati sulla novità di questo mensile. Questo portò i capi della casa editrice ad inscatolare alcuni fra i loro giovani talenti, ovvero trasferirli tutti insieme in un unico appartamento, in modo che potessero concentrarsi sul lavoro per poter proporre anche delle nuove storie lunghe da pubblicare. L'antologia finì anche tra le mani di un giovane mangaka, che stava scrivendo manga per ragazzi, e che ne fu davvero molto impressionato, in particolar modo dal realismo fedele percepito nelle storie e dalla sperimentazione delle opere al suo interno. Quel giovane autore era Yoshi Harutsuge, colui che, come abbiamo detto inizialmente, sarà tra i più grandi esponenti di ciò che verrà poi conosciuto come Gekiga. Furono Yoshiro Tatsumi, Masaiko Matsumoto e Takao Saito, i tre prescelti da Inomaru Bunko per occupare l'appartamento affittato per permettere loro di lavorare su qualche opera consistente, cercando di distaccarli un po' da ombra, rivista nella quale potevano sperimentare molto di più sia nelle tematiche che nella costruzione delle tavole, ma che difficilmente poteva proporre, proprio a causa del fatto che fossero racconti brevi, delle storie davvero epocali, fumetti che potessero insomma competere con lo story manga lanciato da Osamu Tezuka. Pur se con tante distrazioni, i ragazzi si mettono a modo loro a lavorare, ma Tsumoto sperimenta, Saito si immerge nella lettura di libri gialli di importazione americana, specialmente quelli hardboiled che stavano arrivando in Giappone e di cui anche Tatsumi e fratello erano voraci lettori, che saranno grande ispirazione per il capolavoro manga che Saito avrebbe creato in seguito, ancora in corso dal 1968 con più di 180 volumi all'attivo. Fu proprio Takao Saito, nato a Wakayama il 3 novembre 1936, a creare uno dei personaggi più longevi ed iconici dell'intera storia del manga. Dopo aver sperimentato per qualche anno sulle riviste antologiche insieme ai suoi colleghi, nel 1968 Saito comincia a pubblicare Golgo 13 sulla rivista Big Comic di Shogakukan. In questo personaggio e nelle sue storie troviamo tutte le influenze di Saito, primo fra tutti lo scrittore statunitense Mikey Spillane, considerato tra i padri fondatori del genere hardboiled. Nei capitoli della serie, composta proprio da mini storie da 2-3 a 6-7 capitoli, vedremo sviscerare intrighi politici, spionaggio, misteri, cospirazioni ed ovviamente non mancherà un'abbondante dosi di sangue. Il personaggio catalizzatore del manga, pur se non sovraesposto ed anzi non sempre presente, è Diuk Togo. Tornando agli anni 50, Tatsumi dà alla luce un libro molto importante per la storia del Gekiga, su cui stava lavorando da qualche tempo. L'autore completa Tormenta Nera il 25 settembre del 1956. L'opera narra la storia di un pianista, accusato di un omicidio, probabilmente a torto. La Tormenta Nera del titolo fa da sfondo all'opera, quando l'uomo, incensurato e sembra con un passato cristallino, per essere trasferito in carcere intraprende un viaggio in treno insieme alla gente che lo ha preso in custodia e ammanettato ad un pericoloso e feroce criminale. Il presunto assassino ed il pericoloso criminale si troveranno costretti a passare più tempo del previsto insieme, a sopravvivere alla Tormenta di Neve, al ricordo delle loro azioni e all'emozione di pericolose e inquietanti verità, che vengono rivelate al lettore in plot twist molto significativi. La trama potrebbe farvi venire in mente il film con Tony Curtis e Sidney Poetier, La parete di fango, che però uscì negli States solamente due anni dopo. Un autore Gekiga dell'isola di Hokkaido, Koji Asaoka, successivamente riferì a Tatsumi, che rimase tanto colpito da Tormenta Nera da aver affrontato lui stesso una tempesta di neve, per portare il volume ad un suo amico, e che una volta raggiunto, i due stettero tutta la notte a dibattere su questo nuovo tipo di manga, realistico e crudo. Anche tra coloro che Tatsumi più stimava c'era qualcuno che era rimasto impressionato dall'opera, come Masaki Sato, che disse all'autore di essere rimasto molto colpito da Tormenta Nera e che le prime parole che gli vennero in mente furono questo è un nuovo manga. Se da una parte Tatsumi si era visto riconoscere il talento dai colleghi ed era quindi al settimo cielo, dall'altra parte c'era la situazione di Inomaru Bunko, che stava incorrendo in un guaio dietro l'altro e che sembrò sul punto di spegnersi completamente quando arrivò l'arresto per il suo direttore, colpevole di cambiali false e altri magheggi messi in atto per poter tirare avanti in un periodo di estrema difficoltà economica. Nonostante tutto, l'editore in qualche mese riuscì miracolosamente a riprendersi e chiese a Tatsumi di essere il direttore artistico del volume di ombra di prossima uscita. E questo volendo è anche un particolare che rimanda all'aspetto proletario del Gekiga. Infatti gli autori coinvolti in questa corrente erano quasi sempre pagati molto meno rispetto ai colleghi di Tokyo, oltre ad occuparsi a volte anche di aspetti più generali come cover per altri artisti, o appunto supervisione di alcune uscite. È Masaiko Matsumoto, come avevo visto colui che maggiormente si distingueva tra i mangaka che bazzicavano da Enomaru, a creare il Komaga, quello che sarebbe poi stato chiamato Proto Gekiga, innescando molto probabilmente anche la molla decisiva nella mente di Tatsumi, per dar concretezza alle sue volontà e dalla sua visione del fumetto. Il Komaga vede il suo debutto con un'opera di Matsumoto, contenuta nel primo volume di Chiavi, rivista Similombra, sorta sulla scia del successo ricevuto dalla stessa, e anche altre come Città, tutte riviste antologiche mensili fortemente influenzate dal noir e dall'hardboiled americano, genere che cominciava a far parlare molto di sé, specialmente tra i maschi adulti. Nel novembre dell'anno successivo, il 1957, si ebbe un'altra tappa fondamentale nel percorso artistico di questi ragazzi. Il mangaka che faceva loro da guida da Inomaru, si era trasferito a Nagoya, dove per un'altra casa editrice era diventato il responsabile della rivista Città. L'uomo decise di provare nuovamente a far convivere i tre ragazzi, Matsumoto, Saito e Tatsumi, questa volta però a Tokyo, dando loro la possibilità di competere con i colleghi più mainstream, e anche allontanandoli da Inomaru, che stava cercando in tutti i modi di trattenerli, provando anche a negare loro il poter lavorare per altri editori. La sfida di Tatsumi nel trovare un'alternativa al manga per bambini, un manga non manga, si accentua ancora di più in un periodo in cui lui e tutti gli altri colleghi sono costretti a leggere spesso sui giornali titoli come I manga di cattivo gusto proliferano, l'associazione degli insegnanti insorge. Questo perché i loro manga venivano ancora comunque collocati nelle librerie vicino a quelli per bambini, dato che non c'era ancora nessun tipo di distinzione. È in questo periodo che Tatsumi comincia a farsi un'idea del nome che questo tipo di fumetto avrebbe potuto prendere, come ad esempio Setsuga, racconto per immagini, Katsudoga, immagini dinamiche, o ancora Katsuga, immagini di vita. Con grandissimo disappunto da parte di Inomaru, i tre ragazzi accettarono la proposta del loro vecchio mentore di andare a Tokyo, e finirono a convivere in un edificio chiamato Kotabukizo. In quel periodo, sempre a Tokyo, a Nerima, c'era un altro gruppo di autori che vivevano assieme, in un edificio che diventerà poi storico, chiamato Tokiwazo. Il leader indiscusso di questo gruppo era Osamu Tezuka, e dopo di lui in questa casa si stabilirono autori che poi diventarono dei pilastri del manga, come Fujio Akatsuka, Shotaro Ishinomori e Fujio Fujiko. In quel preciso momento storico si stavano gettando le basi per quella che sarebbe stata l'associazione di fumettisti chiamata Geki Gakobo, composta da Yoshiro Tatsumi e suo fratello, Masaki Sato, Maseiko Matsumoto, Takao Saito e altri artisti che condividevano la stessa visione del manga, o almeno di come dovesse evolversi il manga in quel momento. L'associazione viene concretizzata il 5 gennaio del 1959, quando a casa dei fratelli Tatsumi si riuniscono a gran parte degli artisti che gravitavano intorno a loro, e tutti accettarono di buon grado di darsi da fare insieme con la stessa visione del manga. Uno di loro propose riusare il termine Gekiga, che Tatsumi aveva già usato in relazione ad una delle sue opere più di successo, ovvero Tormenta Nera. L'unico nome importante all'interno del nucleo storico che inizialmente era un po' riluttante fu Masaiko Matsumoto, che a modo suo stava già creando da solo qualcosa di molto diverso e mai visto prima nel mondo del fumetto giapponese, ovvero il Komaga. Secondo Shoichi Sakurai, il fratello di Tatsumi, fu Masaiko Matsumoto colui che fu il vero innovatore del Gekiga e del manga ai loro tempi. Akane Toghe, fumettista e critico del fumetto, nel 1969 disse, al tempo che nacque il termine Gekiga, alcune persone al suo posto usavano Komaga. Secondo me sarebbe più appropriato chiamare questo tipo di stori manga evoluti proprio Komaga. Masaiko Matsumoto nasce il 24 novembre del 1934 ad Osaka e comincia a pubblicare manga negli anni 50. Anche lui fortemente ispirato dal maestro Tezuka e da un incontro avuto con lui. Come abbiamo visto in precedenza, nel 1954 conosce una persona che diventerà per lui l'amico e rivale di una vita, Yoshiro Tatsumi. Nelle intenzioni di questi autori, la loro coabitazione sarebbe dovuta servire a spremere la loro produttività, ma non fu proprio così, certamente non nel caso di Matsumoto che infatti fu il primo a mollare tornando dalla sua famiglia a Kobe. Fu subito dopo questa esperienza che l'autore iniziò a chiamare le sue opere Komaga, parola che faceva riferimento alla cinematograficità di questo tipo di fumetto. Komaga infatti stava a significare qualcosa come immagini in frame, per il particolarissimo modo in cui Matsumoto suddivideva le tavole. Il primo ad usare tagli così cinematografici, ancora prima dell'uscita di Tormenta Nera di Tatsumi. Alla fine della fiera, comunque, alcuni fattori, tra cui Inomaru Bunko, sempre più sul piede di guerra, che cercava in tutti i modi di limitare i propri artisti, che d'altra parte finalmente si stavano espandendo anche verso la fondamentale area di Tokyo, per cercare di non farli lavorare per altri editori, spinsero Matsumoto ad unirsi ufficialmente al Geki Gakobo. Tuttavia, inizialmente per l'associazione, le cose non erano così facili. Gli autori erano oberati di lavoro, soprattutto Tatsumi, che si occupava non solo delle storie brevi per le decine di riviste antologiche mensili che erano nate sulla scia di ombra, la ricerca tra le proposte ricevute dei nuovi talenti ed anche essere responsabile per gli altri autori, in quanto proprio a lui era affidato anche il ruolo più dirigenziale dell'associazione. Oltre a questo, c'era anche un problema non da poco sulla chiarezza degli intenti all'interno delle Geki Gakobo. Takao Saito sosteneva che manga e Gekiga fossero completamente differenti dal punto di vista tecnico e che ognuna delle due cose fosse unica a modo suo. D'altro canto, Tatsumi sosteneva che i lettori fossero differenti, ma che le componenti essenziali del Gekiga, come vignette e balloon, fossero radicate nel manga, e che il primo fosse parte del secondo a livello più generale. Queste diversità di vedute erano profonde e ben radicate, benché spesso si evitasse di parlarne apertamente. Il Geki Gakobo fu proprio come una stella, che brucia lucente nel cielo per disintegrarsi poco dopo, spargendo però i suoi lucenti resti a giro per il mondo del fumetto giapponese. Nel settembre dello stesso anno, molte delle pubblicazioni che vedevano la firma degli artisti del Geki Gakobo finirono nuovamente sotto i riflettori dei giornali giapponesi, che facevano inchieste su inchieste su questo nuovo tipo di manga adulto. Le opere Gekiga venivano definite da queste testate come cattivi libri senza morale e senso della giustizia. Le critiche più dure vennero rivolte ai lavori di Masaki Sato. Nato il 15 settembre 1939 a Nishi Yodogawa, Osaka, Sato fu uno di quelli che spinse maggiormente l'acceleratore sulla componente erotica e scioccante. Per lui, il modo di esprimere il significato del termine adulto, riferito al Gekiga, era soprattutto legato ad un immaginario scabroso, molto carnale e violento. Un modo di rappresentare comunque una parte di realtà in cui viviamo e in cui vivevano all'epoca. Anche per questo, Sato non verrà conosciuto all'estero come invece è successo per alcuni suoi colleghi, nonostante le sue opere rimangano di culto per alcuni fan appassionati. Un film fu tratto dal suo soggetto originale, David Naoshi, La stella di David, la storia di un evaso che in una notte di tempesta irrompe nella villa di una facoltosa famiglia, dove stupra la giovane moglie davanti al marito legato. Il protagonista è proprio lo stupratore, che a 16 anni inizia a sentire il risveglio della propria brutalità, quando in classe, durante il corso di storia, ascolta quelle che per lui erano le grandi gesta compiute dai nazisti, e che arriva a 18 anni scoprendosi un maniaco che si è costruito una camera di tortura con l'intenzione di attirarvi giovani ragazze per abusare di loro e poi ucciderle per poter placare la propria sete di gratificazione perversa. L'autore, in seguito a questi articoli, fu inserito in una vera e propria lista nera e allontanato da tutti gli editori che avevano paura di essere boicottati se avessero pubblicato le sue opere estreme. Sato rimase in questo inferno per ben sei mesi, fin quando un nuovo editore, da poco affacciato sul mercato e che non era a conoscenza di questi articoli compromettenti, Suzuran Publishing gli diede nuovamente una possibilità. Il Geki Gakobo, nel pochissimo tempo da quando era nato, aveva lottato strenuamente per rimanere a galla, ma alla fine dovette arrendersi alla sconfitta avvenuta in seguito all'abbandono dei suoi tre esponenti maggiori, Tatsumi, Saito e Matsumoto, che avevano visto scomparire per diverse regioni il significato originale dietro l'associazione e di conseguenza i loro motivi per andare avanti all'interno della stessa. Nonostante questi ragazzi sembrassero quasi non accorgersene, immersi come erano nel mondo del manga, nel frattempo il Giappone stava affrontando un periodo di grandissimi cambiamenti. Il 19 gennaio del 1960 fu siglato il nuovo trattato di mutua cooperazione e sicurezza tra Stati Uniti e Giappone, in attesa della ratifica del Parlamento giapponese. Il trattato fu approvato dalla Camera dei rappresentanti il 20 maggio e il 15 giugno quasi 6 milioni di membri dell'Unione dei Lavoratori si riunirono da tutta la nazione per incitare l'Assemblea nazionale a bloccarlo. Quella notte a Tokyo 100.000 dimostranti si riunirono al Parco Ibia per marciare verso il Palazzo del Parlamento. Dal cancello a sud del palazzo entrarono 7.000 dimostranti guidati dell'Associazione degli Studenti, che si scontrarono con i poliziotti intenutanti su Mossa, che risposero con l'uso di gas lacrimogeni. Nei tumulti rimase uccisa Michiko Kamba, una studentessa universitaria che sarebbe poi stata ricordata come la Giovanna d'Arco del movimento studentesco giapponese. Si trattava del primo spargimento di sangue nel Palazzo del Parlamento. Anche Tatsumi fu coinvolto in questa manifestazione e grazie a essa ritrovò un nuovo vigore, trascinato da questa nuova forza che stava provando a distruggere qualcosa, un'energia generata dalla rabbia, la stessa energia che il Gekiga sembrava avesse dimenticato. L'autore si sentiva eccitato e motivato come non mai, una sensazione di profonda solitudine lo avvolse ed il suo corpo tremò. Il 20 giugno il trattato di sicurezza fu approvato e due giorni dopo fu ratificato da Giappone e Stati Uniti diventando effettivo. Lo stesso giorno Nobuzuke Kishi, allora primo ministro giapponese, presentò le proprie dimissioni. In questi momenti altamente drammatici Tatsumi pensò, no, non potrò mai allontanarmi dal Gekiga. Nonostante il Gekiga Kobo fu una meteora a tutti gli effetti, molti lettori e moltissimi autori furono profondamente colpiti dalle gesta degli autori che componevano l'associazione. Su tutti fu Yoshiharu Tsuge a portare meglio avanti l'insegnamento del Gekiga Kobo. Nato il 30 ottobre 1937 a Katsushika, Tokyo, Tsuge era il maggiore di tre figli e non ebbe mai una vita semplice. Suo padre morì quando lui aveva solo 5 anni ed in famiglia arrivarono due sorellastre nate dal matrimonio successivo di sua madre. La sua famiglia non godeva certamente di grosse capacità finanziarie e Tsuge inizia quindi giovanissimo a cimentarsi nei manga, lavorando con le librerie a prestito. Essendo estremamente timido, il ragazzo trovò l'occupazione perfetta nel mangaka, dato che mentre lavorava non doveva avere a che fare con nessuno. La sua difficile giovinezza Tsuge la racconta nelle sue opere, essendo un autore che amava inserire riferimenti biografici, oltre a creare storie surreali ed oniriche. Nella raccolta di racconti autobiografici il giovane Yoshio, vediamo l'autore raccontare le mille difficoltà avute in famiglia. Dalle violenze continue che subivano lui, i suoi fratelli e sua madre da parte del patrigno, ai durissimi e logoranti lavori svolti sin da molto giovane per poter aiutare in casa sino alle condizioni, ovviamente pessime, in cui versava il Giappone subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Tsuge per anni cercò di dimenarsi tra tutti i problemi che la vita gli metteva davanti, racimolando qualche soldo scrivendo fumetti poco ispirati per riviste a prestito di dubbia qualità. Quando lui e suo fratello Tadao scoprirono i manga adulti di Yoshihiro Tatsumi, videro in lui un mentore, nonostante fosse solo di pochi anni più grande. Yoshiharu comincia a scrivere storie ispirato da quei primi Gekiga di Tatsumi e Matsumoto, mentre realizza anche delle illustrazioni e strisce umoristiche ispirate ai classici del genere. Nel 1955, a soli 18 anni, pubblica il suo esordio Akumen Yaksha, che è anche il suo primo racconto lungo raccolto in Tankobon. Purtroppo però, gli anni successivi al debutto sono così oscuri per il giovane autore che culminano in un tentato suicidio nel 1962. Nel 1965 avviene la sua rinascita, che coincide con la pubblicazione Sugaro. Tsuge in quel periodo lavorava come assistente per Sanpei Shirato e Shigeru Mizuki, ma riesce a trovare il tempo per lavorare ad alcune opere che finiranno sulla seminale rivista di Katsuichi Nagai. Ad agosto pubblica Uasa Nobushi, la prima di 22 storie che segneranno il mondo del fumetto. I suoi racconti, pregni di surrealismo sperimentale e introspettivo, segnano la nascita del manga onirico e invitano al dibattito sul valore artistico e il letterario dei manga. Yoshiharu Tsuge, quindi, oltre al racconto biografico, sperimenterà anche molto sulle storie astratte e surreali, ed in questo caso non possiamo che ricordare come suo picco massimo Neji Shiki, storia del 1967 da cui prende poi il nome e la raccolta all'interno della quale è pubblicata nelle varie edizioni estere. Vi ricordo infatti che quando queste storie uscivano in patria per la prima volta, nella maggior parte dei casi si trattava di capitoli brevi e quasi sempre autoconclusivi che venivano pubblicati su volumi antologici o riviste come Garo o Com fondata dal maestro Tezuka. Dopo essere stato accolto dalla seminale rivista di manga sperimentale Garo, Tsuge implementa in quelle che erano le sue opere il forte impatto avuto dalla visione dei film più introspettivi e psicologici dell'avanguardia europea. Influenze mai notate prima nel manga. Neji Shiki fu accolta in patria con grande clamore. È la storia di un ragazzo che viene ferito gravemente ad un braccio da una medusa che gli ha reciso un'arteria. La sua situazione è disperata e vaga alla ricerca di un medico, nello sperduto villaggio di pescatori dove si trova. Attraverso il menefreghismo delle persone incrociate dal protagonista, l'autore ci mette davanti allo stesso menefreghismo di politici e gente comune proprie del Giappone in cui egli viveva il periodo. Le dure conseguenze della guerra avevano inaspito duramente i cuori di molti giapponesi e l'autore lo rimarcava anche attraverso le sue opere più sperimentali come questa. La strada percorsa dal protagonista del manga per arrivare ad un dottore, irta di ostacoli, dileggiamenti, provocazioni e delusioni, simboleggia proprio la strada percorsa dall'autore stesso del manga. Infatti, seppur oggi riconosciuto come uno dei più grandi mangaka della storia, Yoshiharu Tsuge ebbe dei continui alti e bassi, nella vita come nella carriera. Nel 1965, dopo un anno di pubblicazioni su Garo ed una carriera che stava riscuotendo pian piano piccoli successi, l'autore ha una forte battuta d'arresto, causata da un'importante depressione che lo porterà ad allontanarsi per un po' dalle scene. Questi alti e bassi, purtroppo, continueranno fino alla fine della carriera fumettistica di Tsuge, celebrata con il suo canto del cigno Muno Nohito, l'uomo senza talento, pubblicato nel 1986. Anche in quest'opera, Tsuge gioca con le basi della realtà raccontata nell'opera, per ampliarle grazie a situazioni più estremizzate. Nonostante questo, l'ossatura dell'opera rimane autobiografica. Come suggerisce il titolo, il protagonista è un uomo senza talento, o che almeno questo pensa di essere. Sarebbe un mangaka, ma raramente è riuscito davvero a sostenere la sua famiglia in modo egregio grazie a questo. Arrivato alla mezza età, si trascina coltivando assurdi hobby come collezionare pietre, che in teoria vorrebbe vendere, o smontando e rimontando apparecchi tecnologici che non lo portano a nulla. L'unico traino per non lasciarsi andare del tutto è l'amore di sua moglie, che seppur tra gioie e dolori, sembra nonostante tutto trionfare. Come già detto, anche suo fratello Tadao Tsuge fu un ed esponente di spicco del Gekiga, pur se con minor successo rispetto a Yoshiharu. Nato il 2 luglio del 1941, il più giovane dei fratelli Tsuge aveva ovviamente vissuto le stesse brutte esperienze familiari del fratello Yoshiharu. Come lui, cercava di contribuire alla precarietà economica con qualsiasi tipo di lavoro, compresi i più umili e spesso anche degradanti. Queste esperienze sono tutte raccontate con sincerità disarmante nelle tavole di Tadao Tsuge, che come il fratello, poteva vedersi attribuito l'appellativo di artista operaio. Dopo aver fatto pratica come assistente proprio di suo fratello per un periodo, i due creano un'opera a quattro mani, chiamata Ninja Icho, i rotoli segreti del ninja. Il fumetto era stato programmato per una durata di 12-13 volumi, ma l'editore Wakaki Shobo troncò bruscamente la serie al quarto. A tutte le sventure che Tadao aveva in comune con il fratello, come le violenze familiari e la povertà, dobbiamo aggiungere anche che lui fu sempre ricordato, riguardo alle loro carriere, come quello di scarso successo rispetto a Yoshiharu. Tadao ha però sempre vissuto la cosa sommessamente, quasi in pace con questa consapevolezza. In una pubblicazione giapponese del 1994, Tadao Tsuge, a proposito del suo lavoro, scriveva, troppo cupo, non vende, niente incarichi, così non posso mantenere la mia famiglia. Così negli ultimi vent'anni ho campato con il mio lavoro e disegnato manga nel tempo libero. L'uomo porterà avanti, infatti, parallelamente, sia l'attività di mangaka che quella di altri lavoretti, tra virgolette, normali, come vediamo ad esempio nel suo fune Nisumu, La mia vita in barca, pubblicato serialmente in patria su una rivista di pesca. Qui l'uomo si divide, in un racconto in parte autobiografico, tra la vita sulla sua barca, dove vaga trascinato dalla corrente dei suoi pensieri, la carriera da mangaka e il negozio di jeans della sua famiglia. L'unico periodo lungo di vera indipendenza economica, lavorando solo nel manga, per Tadao Tsuge fu quando lavorò per Garo tra il 1969 e il 1971. La più rinomata rivista di manga alternativi in quel periodo stava vivendo il suo momento di massimo splendore, con oltre 80.000 copie vendute ogni mese. In quegli anni, oltre al creatore della rivista Sanpei Shirato, su Garo si vedevano artisti straordinari come Yoshiharu Tsuge, Maki Sasaki o Seichi Ayashi, e tutti loro diventarono il fulcro della controcultura di quegli anni, ricevendo anche commissioni artistiche al di fuori del manga. Il più giovane dei fratelli Tsuge, però, non aveva mai fatto parte di nessuna scena artistica, ed essendo ancora andato pochissime volte a Tokyo, non era ben inserito. Anche per questi motivi, a partire dal 1971, quando le tirature di Garo scivolarono verso il basso, Tadao Tsuge fu utilizzato sempre più sporadicamente. In quegli anni, l'autore racconta le sue storie più crude e sporche, ad esempio alcuni dei tanti lavori fatti per mantenersi. Tra le più dure, ci sono le storie ambientate durante il periodo in cui il giovane lavorò per una banca del sangue. In quel periodo le norme igieniche erano piuttosto ridicole, e Tsuge ne pagò le conseguenze. Questo racconta, a proposito, dei tempi in cui lavorava per l'industria farmaceutica Nihon. All'epoca nessuno ci faceva caso all'igiene. Se ti facevi un taglietto nelle dita, ci mettevi un cerotto e reimmergevi la mano nel sangue. Molti si sono rovinati la vita. Io ho contratto una forma di epatita acuta circa un anno dopo che ho cominciato a lavorare lì. Avevo l'iterizia, la pelle e gli occhi mi erano diventati gialli, dovetti lasciare il lavoro per due o tre settimane, e la compagnia non si è mai assunta la minima responsabilità. Tra coloro che meglio hanno espresso il concetto stesso di immagine drammatica, si deve obbligatoriamente citare anche Sanpei Shirato. L'autore, nato Noburo Okamoto il 15 febbraio 1932 a Tokyo, oltre ad essere stato il simbolo ed un grande aiuto nella fondazione della rivista, che farà da traino la scena manga più alternativa per anni, creò anche alcune tra le saghe più iconiche di sempre. Il suo ninja Bugeicho, Kagemaru Den, il manuale dell'arte marziale ninja, debutta nel 1959, e oltre ai lettori più appassionati, sconvolge anche insegnanti e genitori. Al tempo, il livello di violenza estrema nei fumetti giapponesi non era minimamente paragonabile a quello attuale. E Shirato, con le sue opere di cappa e spada, fu simile ad uno shock culturale. Il padre dell'autore era attivo nel movimento proletario, e Shirato crebbe con un'enorme dose di risentimento verso chi aveva fatto finire il Giappone in quelle condizioni. L'odio verso i padroni, gli usurpatori, i guerra fondai, fu tutto riversato nelle opere del ragazzo. Kagemaru Den racconta 22 anni di vicissitudini, tra il 1560 e il 1582, dei contadini guidati da Kagemaru, che li sprona verso frequenti insurrezioni verso i potenti dispotici. Anche per queste tematiche di riveglione verso i soprusi, Shirato fu subito preso a modello dagli studenti universitari giapponesi. Prima dell'avvento di questo mangaka, nel mondo del fumetto giapponese, si era largamente evitato di parlare dei Burakumin. Questa parola indicava proprio la gente del villaggio. Sempre ostracizzati e vessati, i Burakumin hanno la loro origine dalle comunità dei reietti del periodo feudale giapponese. Queste comunità comprendevano le persone rifiutate dalla società, considerate impure o toccate dalla morte come becchini, macellai o boia. In quella che sembra essere una delle più antiche forme di ghettizzazione, queste persone continuarono a vivere insieme per generazioni, evolvendosi sino ai villaggi di contadini narrati nell'opera di Shirato. Nella prima metà degli anni Sessanta, il mercato delle liberie a prestito colò a picco, e con esse la presenza degli autori ghettica dal mercato. Mentre alcuni di loro erano spaesati da questo cambiamento editoriale molto importante per la loro routine lavorativa, Shirato cominciò a pubblicare per il settimanale Shonen Magazine della Kodansha. Scrisse storie d'epoca sulla rivista per qualche anno, e questo lo portò a pensare che non era molto tagliato per il sistema industriale usato da queste case editrici, che portava alla spremitura degli autori a causa della cadenza settimanale, senza contare il fatto che prima di essere pubblicate le storie più dure o stravaganti, come appunto quelle di Shirato, potevano subire dei pesanti interventi. L'autore era tra quelli che consideravano la libertà creativa molto al di sopra del compenso ricevuto, e quindi decide di abbandonare Kodansha per puntare tutto su una scommessa fatta insieme all'amico Katsuichi Nagai. I due creano il mensile Garo, che debutta nel settembre 1964. In copertina, un tripudio alla libertà creativa ed espressione tanto voluta da Shirato, con corpi smembrati che volano davanti agli occhi del lettore. Shirato è il simbolo della rivista, tanto che Garo era proprio il nome di uno dei suoi personaggi, e Kamui è la saga che sarà la colonna portante della stessa. L'opera narra la vita di Kamui, un ninja del periodo Edo deciso a lasciare il suo clan. Siamo nel periodo in cui il Giappone esprime al massimo il suo forte ideale di onore, e quando l'uomo riesce a lasciare il clan, tutti i suoi ex compagni si metteranno sulle sue tracce dandogli la caccia. Negli anni seguiremo le avventure del ninja attraverso il Giappone, scappando da un posto all'altro e sopravvivendo grazie alla sua intelligenza e dal suo grande spirito di sopravvivenza, simbolo delle lotte dei più deboli. E come spesso succede nella vita vera per chi vive momenti oscuri, Kamui comincia a soffrire di paranoia a causa del suo stato di uomo perseguitato a vita. Questo lo porterà ad essere diffidente verso chiunque, tanto da arrivare a pensare che tutti lo vogliono uccidere. La serie debuttò nel 64 insieme a Garo e finì nel 1971, ma la saga proseguì nella corposa seconda parte Kamui Den, iniziata nel 1982 e terminata nel 2000. Shirato, come tutti gli altri autori di cui vi ho parlato oggi, produsse tante altre opere, così come Garo e altre pubblicazioni di quegli anni furono vetrina di tantissimi altri validi artisti. Seichi Ayashi, nel Poetico Elegia in Rosso, portò il dramma del Geikiga verso il melodramma onirico nelle sue tavole, che si potevano benissimo definire avant-garde del fumetto. Susumu Kazumata, con il suo neve rossa, narra la quotidianità dei contadini, arricchendola con folklore, credenze popolari e leggende. Ancora su Eiro Maruo, che contribuì ad arricchire il manga adulto di tinte ancora più macabre e terrificanti, nelle sue opere colme di un immaginario spaventoso, Oshinichi Abe, con il suo stile secco, minimalista, totalmente al di fuori delle logiche del manga e storie ispirate alla nouvelle vague della cinematografia francese. In questa rivoluzione culturale interna al fumetto giapponese non mancarono sicuramente le donne che si fecero valere, in quegli anni praticamente ancora dominate dagli uomini. Tra di loro, Shungiko Uchida fu rivoluzionaria e pioneristica, con i suoi scioccanti manga autobiografici sugli abusi subiti in famiglia. Meno autobiografico e più visionario fu invece il lavoro di Kuniko Tsurita, che debutta a 18enne e per diversi anni pubblica manga su Garo, spaziando dal sci-fi all'onirico, facendo anche una capatina nel mainstream con una storia pubblicata su Young Jump. Oltre a questi autori giapponesi, il movimento Geikiga esporta le sue influenze in tutto il mondo, nell'appassionato lavoro di autori come Berliac, Vincenzo Filosa, Adrian Tomine e molti altri. Citarli tutti, ma anche solo la maggior parte, sarebbe ovviamente impossibile in un solo video. Se vi interessa questo argomento, fatemelo sapere attraverso un bel like e scrivendo le vostre opinioni, considerazioni e suggerimenti nei commenti. Se vedrò che l'argomento piace, potremo anche pensare a qualche video spin-off. Se avete commenti e suggerimenti per i prossimi episodi della storia del manga, lasciatemi un commento qui sotto. Lasciate un like per aiutare il canale e condividetelo sui vostri social. Seguitemi su Instagram per gli aggiornamenti quotidiani e noi ci vediamo alla prossima!